buongiorno a tutti primo novembre e vedremo più avanti un po di cose sul dele sul mensile perché come ipotizzate la chiusa rossa quindi mensile quindi andiamo a vederla perché ieri è stata la chiusura mensile oggi voglio ho preparato qualche slide su richiesta si fa questa diretta non prevista perché qualcuno ritiene che oggi sia una giornata importante e sapete come la penso per me questa è una giornata un po la vedo un po come quando non so se a voi vi capita ci sono quelle partite che di terza categoria quando c'è i derby fra paesi dove praticamente te le vai a vedere ci sono su 22 calciatori 33 infortuni 5 risse quindi sono cose in cui te ti piace sta sulle tribune non partecipare mai guardare osservare queste sono le giornate come quelle di oggi perché sappiamo soprattutto per recenti esperienze che possono produrre illusioni e danni quindi dobbiamo ricordare un po di cose perché so di essere ripetitivo però rimette un ballo antichi saggi per capire come oggi andrebbe affrontata perché pare che questi 3 mila anni fa facessero trading allora esagramma 16 occuparsi sono i scinghe nella giornata di oggi e soprattutto in vista della fase intensa che si presenterà in queste settimane perché saranno inizieranno settimane abbastanza toste ho trovato utile riportare alcune frasi dei scinghe la prima di questo esagramma è solidi come una roccia contro il logorio dell'attesa io so che in situazioni come quelle che vedremo stasera attendere sarà veramente difficile perché nel movimento ricordiamoci c'è l'illusione e l'idea di prendere al volo l'occasione diventa irresistibile e poi diventa un cambiamento perché perché queste giornate sono fatte apposta in questo caso sembrano suggerirci di praticare una forma di attesa particolare sembra adatta a mio avviso come indicazione per la giornata che si sta per manifestare conferma pazienza guardare il trasformare del tempo in conclusione lui qui in questo caso in questa esagramma cinghe parlano di paure immobili c'è la paura di stare fermi che è una forma di paura del non partecipare paure immobili che non devono scoraggiare ma rinvigorire pertanto il consiglio è essere solidi come una roccia contro l'ogoria dell'attesa dell'inquietudine delle incertezze e l'atteggiamento giusto se si vuole realizzare la giornata di oggi oggi potrebbe essere una giornata complicata dove la maggior parte delle persone si attendono decisioni di direzione degli indici e dei mercati in generale sono le 8.03 e già il DAX si è piantato 50 punti long quindi già la premessa è oggi voglio idioti che fanno trading ho voluto riportare queste frasi per porre l'attenzione su quello che ormai da esperienza sappiamo reale in queste giornate e sarò ripetitivo la fase odierna sarà un'eccezionale occasione per le mani forti nell'utilizzare i volumi che ci saranno grazie alle impazienti e partecipazioni del retail e sui quali prenderanno decisioni per i giorni successivi non per oggi decisioni che prenderanno oggi varranno i giorni successivi per questo preciso motivo il mio atteggiamento sarà molto orientato alla ferma pazienza con solida attesa cercando di non cadere in quelle paure immobili che mi spingono all'azione in anticipo a tal proposito ho voluto salvare l'ultimo momento in cui la fede ha fatto la decisione di tassi che è stato il 20 settembre dove c'è stato a mio avviso una notevole procedura illusoria per fare entrare long se uno ha attenzione pazienza e gestisce il momento nella maniera edonea qui quando praticamente sono usciti i tassi questo è il famoso doji che fa sempre a qualsiasi time frame nel momento in cui spara l'uscita dei tassi poi c'è la conferenza stampa mezz'ora dopo produzione long ritracciamento ipotesi di ritorno log ora quello vediamo al grafico fatto nel momento in cui si realizza l'impressione di voler salire la dava tantissimo cosa ha fatto lui nel frattempo se uno invece di andare a pigiare come un matto e iniziarsi a fare delle opinioni osservava nel frattempo lui con la candela dei dati ha creato una muslim bar con una congestione ha fatto lo stop hunting necessario fa prima uscita long e poi ha fatto l'uscita short e via andare questa storia qui se lui mi ha tenuto fermo si si è poi manifestata nella decisione finale che si è verificata dal giorno successivo che è stato lo short di cui abbiamo fino a 4.100 circa di cui abbiamo visto gli esiti se andiamo a vederlo sul daily praticamente il discorso è andato così ok la decisione praticamente avvenuta nei giorni successivi pertanto già al cinque minuti mi aveva dato un primo indicazione che il failure era long questo è un 1 2 e 3 ok successivamente poi con gli uncini e vari uncini e tutto il resto ha fatto quello che doveva fare tra l'altro con le nuove informazioni che abbiamo questo reverse rosu che era la doji praticamente del dato con la conferenza stampa è stata rotta col 1 2 3 pertanto in questo caso si trattava di aspettare le 21 questo va bene sono le 15 orario esei erano le 21 invece di voler per forza anticipare cercare di essere il più fenomeno del gruppo ed entrare alla grande e invece bisogna aspettarlo perché lui in queste fasi qua quando ci sono volumi lui i volumi li usa per creare qualcosa che decide dopo a volte lo decide dopo qualche giorno anche il giorno dopo nell'ultimo caso dei tassi l'ha deciso esattamente un'ora dopo iniziando un movimento che poi dopo è diventato quello che abbiamo visto fino a oggi in questo caso il tutto va sempre anche nella logica di un contesto generale perché se io vado a riprendere il daily del 20 settembre mi rendo conto che il segnale intermedio questo è il 19 fondamentalmente delle tre candele era più vicino quello short quindi avevo anche una base per capire che laddove non facesse la rottura completa long che poteva portare a un ingresso long lui praticamente andava a fare il segnale intermedio del gruppo delle tre candele short quindi se io metto insieme tutta una serie di cose anche oggi e cerco di evitare di farmi ipnotizzare dal movimento ma avere sempre ferme tutta una serie di di presupposti che ho appuntato prima partendo praticamente da una visione più generale a quel punto lì sto vado a cercare quello che in momento di acque calme perché questa è acqua calma questo qui è un treno che richiede uno stop l'osso molto corto rispetto a quello che succede prima tenete presente che il 20 settembre non è stato è una delle giornate durante i tassi fra le più diciamo dinamiche è stata abbastanza tranquilla sotto questo aspetto però nella sua tranquillità ha dato sicuramente delle indicazioni come siamo messi oggi oggi si sono messi bene perché lui ci dà già un calendario ci fornisce già un calendario un'ora sul future cioè ci dice che questa leg dopo questo evento significativo dove abbiamo un trend e qui praticamente ci possiamo muovere anche abbastanza serenamente prendendo come prima candela questa piccola doge nel mezzanora quindi 3 3 6 3 9 e con quella di adesso 10 sono le ore 8 questa candela le chiude alle 9 9 più 10 fa 19 a che ora ci sono i tassi? alle 19 pertanto cosa fa una persona come abbiamo detto con solida atteggiamento impazienza aspetta la prima uscita da un'ora probabilmente prima o durante i tassi ci sarà una prima uscita da queste 3 di range un'ora che per il momento ha il minimo qua e il massimo qua dopo si fa le valutazioni tipo alle 20 tassi 19 alle 19 19 e 30 conferenza stampa alle 20 vediamo questa 3 di range dato che finisce la candela un'ora scendendo di time frame cosa sta costruendo 15 minuti 5 minuti via discorrendo nel frattempo durante la giornata di oggi abbiamo la consapevolezza e che questa è conoscenza di una situazione che a partire da questo prezzo qui per arrivare sotto a questo prezzo qui chiusa questa candela che è la decima noi queste due righe non facciamo altro che modificarle per 10 ore poi chiaramente scendendo di time frame si va a lavorare sull'intraday facendo lo scalping e tutto il resto ma consapevole del fatto che tutto quello che farà in queste 10 ore se non 11 potrebbe non essere quello che lui ha deciso di fare dopo per tutta una serie di ragioni gli ordini ci sono in ugual misura sopra e sotto qua c'è una distanza abbastanza importante questa pare essere una trend line che può richiedere una rottura una rottura short che potrebbe andare a cercare perché no quello che io mi aspetto se questa è un'accumulazione un altro minimo speculare a questo tipo farlo qui tipo 4150 che ripetiamo è il prezzo medio della 3D range mensile da gennaio 2022 il tutto sperando che inizia a fare quel lavoro che ci aspettiamo che è quello di produrre con questo test che deve fare una più bassa sta trend line scusate eccola qua una accumulazione per vediamo se lo vorrà fare quest'anno un rally di fine anno che abbiamo sempre detto che se lo è partirà dalla prima seconda settimana di novembre ci siamo quindi da domani inizia a essere molto interessante la situazione da questo punto di vista molto importante vedere da dove parte se lui tende a fare la prima mandata long di uscita 3D range la vedrò sospetta mi immaginerò poi andiamo a vedere il daily che voglia rifare un altro intrappolamento long per rifare un altro minimo daily per poi dopo partire semmai in un rally sempre che ci sia questo rally ragazzi perché le situazioni possono anche suggerire che non ci sarà secondo me è una giornata importantissima invece di questa di oggi e quella di venerdì dove i libanesi faranno una conferenza stampa e si vedrà se entrano in guerra e questo potrebbe far cambiare tante cose dal punto di vista di reazione immediata sulla notizia da parte dei mercati sia in versione spuffe come è stato l'ingresso russo del febbraio 2022 o come short complessivo perché ho questo timore che le fragole stanno maturando ma non eccessivamente mature perché questo è il cash daily la chiusura di ieri ecco abbiamo nel giardino europeo ancora problemi di connessione la chiusura di ieri pare aver costruito una lag questa qui è da intendersi secondo me una lag ora ecco sta riaggiornando lo prendiamo vediamo un attimo eccolo pare qua costruita una lag questa può diventare una nova 3D range che è infatti la situazione potrebbe essere particolare però mi convincerebbe sul fatto che accumulano perché questa è una candela 21 di prima uscita dalla 3D range qua quindi abbiamo una situazione veramente interessante questo è il minimo della 3D range precedente questo è il massimo della 3D range precedente se lui addirittura per sistemare la situazione qua sotto facendo anche altri minimi perché ricordiamoci che abbiamo un doppio minimo qua un doppio minimo qua ripetuti perché sta iniziando questa procedura qui vedete in formato lag quindi con degli swing anche in controbandierina a scendere per poi salire lui inizia a fare tutta una serie di ordini utilissimi già abbiamo questo e probabilmente avremo questo per poi costruire un trampolino per andare poi long per fine anno e prendersi finalmente questo che noi consideriamo un cluster non completamente eseguito tra l'altro oltre cluster anche con gestione per cui che ha alternanza di candele per cui ha tutto i crismi per poter essere presa dopo perché preferisco che lui continui un attimino a fare qualche discesina perché io intendo se il long è di prenderlo bene nel senso di tenerlo perché più mi sta qua sotto più fa ginnastica qua sotto più sono convinto che loro usano il tempo quando le manifesti usano il tempo vuol dire che mettono più contratti se mettono più contratti vuol dire che vogliano produrre un movimento più consistente se invece questo long lo velocizzano alla velocità della luce tipo spingendo con tre candele verdi più una quarta sparata long per arrivare qua giù allora mi aspetto che qua sopra loro possono più produrre un atteggiamento di vendita perché accelerano troppo il movimento in questo senso quindi se vogliamo fare questa sparata long finale per poi dopo invece andare in qualcosa di diverso quindi questi due o tre giorni come vedete sono molto fondamentali il tutto sapendo che nel mensile in una 3D range mensile che abbiamo più volte detto che c'è le due doji a 4.150 vedete che hanno tenuto botta ha fatto le tre candele rosse in queste tre candele rosse noi ci aspettiamo uno o due candele di ritracciamento per poi fare il pattern eventualmente short per andare a prendere cosa tendenzialmente per andare a riprendersi quella che adesso ha tenuto botta con un test che è questa congestione qua vedete come l'ha testata bene questo mese di ottobre quindi da qui vengono fuori anche qui due soluzioni possibili la prima test buono long e a questo punto si va per massimi assoluti test no buono o qui sopra o qui sotto deve creare l'uno due tre può farlo sì perché perché tendenzialmente lui con queste tre candele rosse ha rotto sta trend line di un'ipotetica bandierina fino a dove può farlo almeno se lo farà ricordiamoci che ci vuole comunque la candela long di ritracciamento fino a che non arriverà a prendere questa trend line qua in testing ok pertanto ci aspettiamo novembre verde nell'idea delle tre candele rosse più ritracciamento sì però molte volte questo tipo di pattern di tre candele rosse più ritracciamento viene costituito con quattro candele rosse e la quarta poi ribalta inizia rossa quindi con un minimo e quindi si spera di vedere un po' di minima all'inizio di novembre per poi chiudere verde fa quella di dicembre rally di ritracciamento ritraccia la precedente e poi il punto di ingresso short diventa il minimo qua il punto di ingresso long in questo caso nel mensile diventa il massimo qua perché sarebbe la rottura di un uncino ok tenete presente che se vale anche la teoria che mi sto immaginando da mai quanti mesi sono passati 21 mesi 23 mesi che questo ha piantato un range per scannare i risparmiatori sulla inflazione questa qui potrebbe essere una nuova leg di una nuova trend range mensile ragazzi all'interno della precedente sappiamo che quando abbiamo visto il grafico annuale e vediamo che siamo sempre a questo livello qui l'idea che chiude una doge annuale c'è chiude una doge annuale ragazzi questa ce la spinge fino al 2025 così finché noi non saremo praticamente con un potere d'acquisto praticamente dimezzato su quello che abbiamo qua dentro e teniamo sentitamente in fondi di investimento o altro pertanto tutto è possibile è chiaro che in quest'ottica qui andiamoci un po' a ripercorrere il settimanale anche se mercoledì in quest'ottica qui vedete che le cose praticamente sono da gestire quasi sempre in intraday perché dal punto di vista di trend non c'è qualcosa di realmente solido da dire vado per un lungo trend che possa durare delle giornate e delle settimane e pertanto secondo me l'unica cosa da fare è quella di approfittare un eventuale pattern che si forma qua sotto per un veloce rally di fine anno se lo fa senza delle pretese enormi poi sul mensile vedremo fra il novembre dicembre se questo rally è solo proprio d'eutico che fa una candela verde un paio per poi scendere dopo andare ai minimi da 3D range mensile che siamo sui 3.500 3.600 3.800 o se vuol rimanere in zona o se vuol fare i massimi assoluti questo ce lo dirà quindi già con queste tre candele che ha fatto in questi ultimi tre giorni l'SP ci sta dicendo tu oggi decidi quel che vuoi tu oggi fatti tutta una serie di cinema se long o short questo questo potrebbe non essere un movimento definitivo perché se è una lag di un'altra di range lui in questo spazio qui rischia di piantarsi per altri 15-16 giorni ad accumulare probabilmente sopra questa congestione mensile quindi vediamo un attimo come funzionerà tutto il discorso ricordiamoci che comunque dato certo è che questa è una prima uscita short e quindi e finiamo con l'analisi questo è un RH è un uncino per cui sapete che gli uncini con tre candele non li piglio però potrebbe essere un uncino che va a ricercare un altro minimo in questo senso dove sta il reverse rossi hook il reverse rossi hook sta qui quindi anche questo diventa un altro punto di riferimento se lui in questa procedura di rialzo prima di fare qualsiasi tipo di movimento con segnale long e di inversione va a rompermi questo reverse rossi hook sappiamo che è un filtro il reverse rossi hook per capire se siamo vicini a un cambio di trend quindi va tenuto d'occhio il livello del reverse rossi hook andiamo a vedere 4259 quindi questo punto qui per noi è fondamentale l'altra cosa l'ultima cosa che ci eravamo detti in diretta fra di noi nella 3d room è che era fondamentale che lui ritoccasse almeno 4200 per vedere un attimo come si comporterà di seguito siamo a 4193 quindi bene o male questo discorso lo ha creato lo ha fatto ce lo ha regalato quindi ripeto io oggi sarò molto timido nel senso molto pauroso non avrò le palle e vediamo un attimo quello che costruisce partendo dall'altro punto fermo che ho e che io mi segno oggi che a un'ora sono in 3d range e finché lui non mi risolve questa 3d range qua io non muovo foglia a meno che non ho qualche setup a livello 5 minuti che è un bello con degli ordini da prendere veloci ma in uno scalping talmente veloce che voi non avete un'idea sicuramente non alle 19 di stasera su quello non ci sono dubbi io la partita con le risse da terza categoria me la guardo dalle sparti ok piccolo aggiornamentino penso che il Dax sia simile anche il Dax ha fatto una leg quindi lo potete anche vedere piccolo aggiornamentino avevamo visto un fine settimana gold sta facendo un segnale un setup scusate di rottura short daily quindi aggiornamento iniziamo a pensare quello che avevamo detto questo è una leg questa è la candela di mezzo 3 3 6 2 8 sapevamo che con venerdì sapevamo che certificavamo che questa è una 3D range che ci portava altri 10 sedute palla in tribuna quindi diciamo una prima conferma un po' dell'analisi che avevamo fatto la sta dando dobbiamo aspettare due giornate ma visto che fino a domenica non ci vediamo io qua vi consiglio di iniziare a fare solamente questo lavoro per chi vuole fare un multiday è staggeggio qua no? ma questo qui pare volersi prendere una pausetta in questa zona qui potrebbe essere in formato si spera perché era quello che a me sarebbe piaciuto vedere in formato controbandierina quindi con dei massimi molto ravvicinati vedete ho iniziato a farli con altri massimi questa candela lunga potrebbe essere tranquillamente ripresa lunga fino a che non finita la 3D range quindi la ventesima candela faccio uno spuffe lunga per poi riattraversarmi lo shot se lui mi fa se lui mi apparecchia con tutto questo cinema comprate gold e comprate gold e comprate gold se lui mi apparecchia tutta una serie di ordini qua sotto così però me lo deve far salire piano 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 cioè deve iniziare a far scrivere articoli di giornali di tutti questi guru gold a 2040 gold a 2000 il gold massimo assoluto il gold di qui il gold di là se non mi fa tutta sta procedura poi dopo ragazzi secondo me è uno future short bello pieno lo prendo se invece la 3D range me la fa laterale allora a quel punto dovrò aspettare la prima uscita e vedere dopo la prima uscita qual è la sua parte migliore cioè dove gli piace uscire ma se me la fa in controbandierina e mi mantiene fisicamente questa trend line guardate che spettacolo per me diventa anzi sarebbe addirittura un po' più eccola qua un po' più dolce chiamiamola eccola qua ah per me sarebbe spettacolare chiudere la decima candela qua venerdì poi la settimana prossima farsi un altro po' di long e poi ta la rompiamoci sarebbe perfetto bisogna che inizi a vedere tanti massimi ripetuti perché i trader professionisti sui massimi crescenti entrano long e noi abbiamo bisogno qui di gente che entra long poi dopo vediamo cosa farne ok chiudo qua mezz'oretta quindi video anche in formato youtube per quelli che li vogliono corti ci salutiamo e lascio spazio alle domande e ci vediamo domenica con la solita analisi settimanale a tu mai ora e buona festa ciao a tutti ciao a tutti